Buonasera Nicola Genga che per Rubettino ha scritto il Fond Nazionale di Jean-Marie e da Jean-Marie a Marine Le Pen, cioè padre e figlia, due leader del partito di estrema destra francese di cui si parla molto, il sottotitolo della destra nazionale populista in Francia, lei Genga è ricercatore al CRS, il Centro per la Riforma dello Stato e collabora anche con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Università della Sapienza di Roma e anche svolto attività di ricerca all'Università Paris-Est a Créteil. Grazie di essere con noi, Genga. Il partito di Marine Le Pen, il Fond Nazionale in Francia è sottoposto a una enorme attenzione mediatica perché il suo consenso cresce, viene percepito come il vero possibile competitore dei soggetti tradizionali francesi del ballottaggio e quindi socialisti e UMP, il partito diciamo così di centrodestra, però io ricordo che già una ventina di anni fa arrivò il padre di Marine Le Pen al ballottaggio e ci arrivò contro Chirac e al primo turno prese, se non sbaglio posso sbagliare qualche decima, il 22,3% al ballottaggio prese il 22,1%. Quindi secondo lei la Francia, come ha dimostrato anche in queste ultime elezioni dipartimentali in cui è vero che il consenso, come dire, cardinale del Fond Nazionale è stato molto alto ma alla fine non ha preso nulla dei 106 dipartimenti, come dire, è affascinata, è sedotta ma alla fine non si fida? L'ultimo risultato elettorale che è stato come ha detto lei positivo ma non si è tradotto sostanzialmente in seggi nella conquista dei dipartimenti si lega alla indisponibilità persistente del Fond Nazionale ad adattarsi al sistema e quindi a cominciare a costruire delle alleanze a livello locale come a livello nazionale. D'altronde anche Sarkozy ha dichiarato prima delle elezioni di queste ultime elezioni in altre occasioni che non è disponibile ad avallare nessun tipo di coordinamento, di alleanza, di cooperazione con questo partito. Bisognerà vedere che cosa succederà in questi due anni, fare una previsione sull'esito delle prossime presidenziali è presto, sappiamo che un evento a pochi giorni dalle elezioni può scompaginare completamente la competizione se ci ricordiamo quello che successe per esempio nel 2004 in Spagna con l'attentato alla stazione da Toccia. Per cui ora possiamo registrare la convergenza tematica del Fond Nazionale con la destra gollista e conservatrice di Sarkozy degli ultimi anni che però non ha prodotto finora risultati concreti. 62 consiglieri dipartimentali ma nessun dipartimento conquistato dal Fond Nazionale a fronte di un consenso che corrisponde al 25% del voto dei francesi, almeno di quelli che si sono insomma regati alle urne. La questione è anche della crisi della democrazia che insomma il Fond Nazionale evidenzia in qualche modo e lo fa in elezioni in cui la disaffezione elettorale si manifesta al massimo grado. L'anno scorso il Fond Nazionale è stato sì primo partito ma in una elezione in cui hanno votato pochissimi francesi, 4 francesi su 10 e tra questi un quarto ha preferito il Fond Nazionale quindi un francese su 10 ha votato per il partito della PEN. È ancora un po' poco insomma per poter sperare di conquistare l'Eliseo nel 2017. Allora cerchiamo anche di tematizzare diciamo così ovviamente il panel valoriale del Fond Nazionale ma anche quelle che poi sono diciamo così le parole chiave tra l'altro diciamo così c'è una convergenza, un'alleanza a livello europeo anche con la Lega di Salvini. C'è l'anti-europeismo dunque diciamo così un giudizio a dir poco fortemente critica sulle istituzioni europee e poi c'è quello che lei chiama il nazionalpopulismo declinato diciamo così lei parlava di convergenze con una parte del programma di Sarkozy poi però diciamo così con quel tipo di destra comunque riformista che ha una grande tradizione radicata in Francia su molte cose ci sono distanze quasi incolmabili che ovviamente Sarkozy vuole tenere incolmabili. Certo ha naturalmente ragione soprattutto sul tema dell'Europa e dell'euro nel passaggio di testimone tra il padre e la figlia non ci sono state variazioni significative su questo tema. Si proponeva l'uscita dall'euro e anche dall'Europa con Jean-Marie Le Pen e lo stesso accade con Marine Le Pen. Identità, tradizione, autorità questi sono valori al centro della proposta politica del Fond Nazionale. Identità significa conservazione alla tradizione dell'Occidente Cristiano di cui nonostante tutto la Francia è un esempio di fronte all'incombente islamizzazione ripristino della pena di morte, chiusura delle frontiere, politiche draconiane molto stringenti sull'immigrazione. Ecco questi sono i temi che caratterizzano il messaggio del Fond Nazionale e oltre a questo c'è anche l'idea della preferenza nazionale o priorità nazionale che la stessa Lega Nord ha adottato negli ultimi anni. Cioè l'idea che il welfare, un stato sociale che anche il Fond Nazionale auspica venga rafforzato, sia gestito secondo criteri di appartenenza nazionale dei beneficiari, cioè allocando le risorse primariamente a beneficio dei nazionali, dei cosiddetti français de souche, i francesi che hanno la nazionalità e che sono già ben radicati. E questo entra nel grande dibattito sullo Iussoli che c'è in Italia ma ovviamente in Francia il processo di moltiplicazione etnica dal punto di vista sia della residenza che della cittadinanza ha radici molto più profonde. Allora, le faccio un'ultima domanda però a 30 secondi per rispondermi. Che cosa, lei ha studiato questo tema, cosa prevede per il futuro prossimo, per il breve e medio periodo dell'avvenire politico del Fond Nazionale? Il Fond Nazionale ha di fronte un bivio, può decidere di continuare nel rimarcare la propria radicalità e quindi conservare un bacino elettorale pur senza incidere sulla carne viva del paese, restando così la situazione della legge elettorale e del sistema istituzionale. Oppure può provare ad adattarsi, a convergere con le altre forze di destra e di centrodestra. Resta da vedere se queste saranno disponibili a farlo, vista anche la debolezza del Partito Socialista che può aprire una strada molto larga verso l'Eliseo, a Sarkozy o a chi per lui, poi vedremo. E ovviamente in questi casi si verifica sempre il criterio di reciprocità. Grazie a Nicola Genga, il Fond Nazionale da Jean-Marie Marine Le Pen, la destra nazionale populistica in Francia, edizioni Rubettino. Buon lavoro, alla prossima. Grazie a Paolo Pedereca in regia, ma grazie come sempre a Tiziana Cantarelli, a Redazione Politica e Parlamentare di Regno24, allo studio, alla regia. Ci vediamo domani in diretta a 18.30 con il Transatlantico. Buona serata.